Cuneo città poco sicura l'amministrazione Borgna respinge con forza l'immagine di Cuneo raccontata dalla trasmissione di Rete 4 fuori dal coro tornata nel capoluogo per raccogliere le impressioni dei cittadini Si è conclusa con quattro arresti a Brau un'importante operazione antidroga condotta dagli agenti della squadra mobile di Cuneo con i colleghi della polizia stradale coordinati dalla procura di Asti Zona gialla riaprono anche i cinema solo il 15% ci crede e mette a disposizione le sale due quelli in provincia di Cuneo il Lux di Busca e l'Aurora di Savigliano Nello sport il ciclismo e la mitica Fausto Coppi dopo l'anno di stop forzato a causa della pandemia la corsa tornerà il 27 giugno Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegranda in apertura la cronaca ed in particolare torniamo sul caso che tanto ha fatto parlare di sé il capoluogo della Granda purtroppo in negativo le telecamere della trasmissione di Rete 4 fuori dal coro sono arrivate ancora a Cuneo per fornire aggiornamenti sulla vicenda dell'aggressione della troupe televisiva avvenuta in corso 4 novembre ma anche per approfondimenti sulla situazione di allarme dal punto di vista della sicurezza che si vive nella zona di Corso Giolitti una zona della quale da tempo parliamo anche noi facendo emergere però un'immagine di Cuneo come città poco sicura un'immagine che l'amministrazione comunale respinge Cuneo ancora protagonista della trasmissione fuori dal coro di Rete 4 che nella puntata di martedì sera ha dedicato ampio spazio al capoluogo della Granda con servizi e approfondimenti ed un inviato sul posto al centro ancora la vicenda che ha fatto parlare nelle scorse settimane dell'aggressione alla troupe della trasmissione da parte di Dainet Cruz, 31enne cubano che da tempo occupava l'appartamento da cui era stato sfrattato perché non pagava l'affitto l'abitazione è stata liberata Cruz e la compagna sono stati accompagnati dalla polizia in un'altra casa in provincia di Torino ha riferito l'inviato della trasmissione a Cuneo che è anche entrato nell'appartamento insieme al proprietario Fulvio Fantino e alla moglie ma gli approfondimenti su Cuneo non si sono fermati qui successivamente il conduttore Mario Giordano ha dato spazio ad altri contributi dal capoluogo della Granda concentrandosi in particolare sulla poca sicurezza nella zona di Corso Giolitti spesso teatro di episodi di criminalità una rissa tra due persone è stata immortalata dalle telecamere della trasmissione di Rete4 l'inviato ha poi raccolto la testimonianza del titolare di un bar aggredito il giorno di Pasqua un racconto già proposto in esclusiva dal nostro telegiornale alcune settimane fa succede così ogni giorno non ce la facciamo più e non ci sentiamo tutelati dalla polizia così hanno riferito alcuni residenti intervistati l'immagine di una città pericolosa emersa dagli approfondimenti di fuori dal coro era stata già respinta nei giorni scorsi dall'amministrazione il sindaco Federico Borgna nell'ultima seduta del consiglio comunale svolto proprio mentre andava in onda la puntata della trasmissione ha invitato il conduttore Mario Giordano a Cuneo lo accompagnerò io dove vuole a qualsiasi ora del giorno e della notte la nostra città è sicura ha detto il sindaco e anche noi più di una volta non solo nel corso delle ultime ore avevamo raccolto le sensazioni le impressioni di chi vive o anche di chi semplicemente transita per il quartiere che sta attorno a Corso Giolitti e alla stazione abbiamo voluto raccogliere le impressioni anche di chi attraversa il quartiere in queste ultime giornate dopo quanto successo è raccontato anche a livello nazionale si parla tanto dei problemi di sicurezza in Corso Giolitti cosa ne pensa? è giù in fondo io non sono di qua io non abito qua in questa zona ma io devo dire che non li avverto così tanto perché abito un po' più lontano di qua ma io non abito qua quindi è un po' difficile leggo sui giornali non abito qua il signore abita qua ma io sto bene qui la mia età è c'è il Natale non è più come qui basta fare un giro uno si rende subito conto tutte quelle persone così non so cosa fanno cosa non fanno di qua in su non c'è mai niente non ho mai visto dei casini come abitante sì è sicuro non abbiamo mai avuto problemi di nessuna natura io abito lì sul piazzale della stazione a dire la verità noi usciamo anche poco non usciamo di notte io non trovo che ci sia dell'inquenzio c'è qualche cosetta di spaccio in uno di quei negozi degli africani quindi la sicurezza cuneo in questa situazione certamente qui non della migliore e poi ci sono questi negozi di cinesi e di marocchini dove vanno a comprare la birra e poi si mettono lì a berla può essere successa anche qualche rissa qualche volta ma non direi che è una situazione da Brooklyn ecco insomma ma in tutta Italia esiste là diciamo la verità si vedono tante persone di colore ovviamente ma sono tranquille non danno fastidio non creano caos com'è la situazione dal suo punto di vista? non bella non bella perché? eh perché non posso parlare perché poi dico troppo so che c'è del malumore qui no dica qualcosa allora no 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 ma lei si sente tranquilla a passeggiare su questa via o no? tranquillo a 91 anni posso essere tranquillo quindi però però io non ho paura esco col cane solo una sera che mi sono un po' spaventata un episodio spiacevole? eh sì poi sa sono vecchi allora non esco senza borse senza niente col cane se mi rapisco non ne fanno niente io non credo che ci siano problemi di aggressioni e c'è qualche ogni tanto di quegli sfattoni che si mettono lì a bere la birra seduti su marciabie ma che sono i nostri non sono marocchini non sono africani le ore critiche sono in casa diciamo che la sera anche non giro più tanto quindi non so esprimere un giudizio non sono un abitué della notte per cui le ore serali non lo frequento però durante la giornata non ci sono assolutamente problemi quello che è che dà fastidio molto alla gente è che anche i prezzi degli alloggi sono calati in quella zona lì perché si diffonde a tantam la paura di chissà di che cosa ieri sera su rete 4 ne hanno parlato non so se l'ha sentito ed è emersa un po' cuneo come far west secondo lei è esagerato? secondo me è una definizione esagerata bisogna anche considerare che queste persone in questo momento forse non hanno un punto di ritrovo sicuro per loro è dunque facile che si creino degli assembramenti oltretutto hanno una situazione sociale da comprendere e da aiutare secondo me adesso non andiamo nell'esagerazione ci sono posti dove effettivamente c'è questo problema esiste ci sono alcuni episodi isolanti ed è giusto che ci sia una percezione di sicurezza la polizia è sempre presente i carabinieri le polizie passano controlla ma fra questo dire che Cuneo sia una città non sicura ce ne basta c'è forse la tendenza a volta a enfatizzare un po' la situazione e parliamo purtroppo anche di un'altra aggressione questa è avvenuta nella mattinata di oggi mercoledì 28 aprile nella zona alta di Corsonizza ma comunque sempre in centro alla città di Cuneo in questo caso addirittura in strada l'esasperazione dovuta al mancato pagamento sarebbe la causa dell'aggressione sulla pubblica piazza avvenuta mercoledì mattina in pieno centro città a Cuneo in Corso Nizza intorno alle 9 un uomo avrebbe bloccato il traffico per fermare la corsa di un'auto una Mercedes sulla quale viaggiava una coppia un uomo e una donna un attacco vistoso con tanto di urla calci e pugni alla macchina fino a costringere il conducente ad accostare e scendere dalle vetture anche lui è stato travolto dalla rabbia dell'aggressore che lo ha colpito più volte al volto con l'ombrello vano il tentativo della moglie di fermare l'aggressore la donna è caduta a terra nel frattempo qualcuno ha chiamato la polizia intervenuta con tre volanti gli agenti sono riusciti a bloccare l'aggressore che stava tentando la fuga scalzo l'uomo un trettenne di origini africane è stato portato in questura dove nel corso della giornata è stato interrogato pare appunto che sostenga di essere creditore della coppia che ha aggredito la coppia anche loro di origini africane è stata accompagnata in ospedale per accertamenti sarà la procura di Cuneo a decidere quali provvedimenti assumere nei confronti dell'aggressore parliamo anche di aggressioni avvenute nel passato in particolare quella della quale parliamo in questo momento risale al 2018 siamo a Mondovì in una discoteca molto conosciuta del territorio dove un ragazzo di 35 anni di Mondovì è stato aggredito da un ventenne di edogliani la ricostruzione dei fatti è avvenuta anche in tribunale perché il 35enne vittima dell'aggressione ha sporto denuncia e il processo si è chiuso in questi giorni con la condanna per lesioni ai danni del ventenne doglianese ed ora la cronaca ci porta anche a parlare dell'importante operazione condotta dagli agenti del volante della questura di Cuneo in collaborazione con la polizia stradale un'operazione un'indagine che ha portato all'arresto di 4 persone per un importante traffico di droga nel braide nei giorni scorsi la polizia di stato dopo un'intensa e complessa attività di indagine coordinata dalla procura della repubblica di asti ha arrestato a bra 4 uomini di origine albanesi responsabili di un importante traffico e spaccio di droga gli agenti hanno anche sequestrato i conti correnti riconducibili ai 4 6 autovetture e 7 mila euro in contanti un'indagine che gli agenti stanno conducendo da tempo gli investigatori della squadra mobile della polizia stradale di cuneo infatti incronciando le informazioni raccolte in una precedente indagine sono riusciti a ricostruire la rete dei clienti che acquistavano dosi di cocaina da una coppia finita immanente l'autunno scorso durante le indagini è emersa in particolar modo la figura di un quarantenne albanese che viveva a bra conosciuto nell'interland come il modello per il suo abbigliamento curato e l'alto stile di vita che prima del lockdown era solito gravitare nell'ambito dei locali della movida braidese ed intorni sono 200 gli episodi di vendita documentati minuziosamente dagli agenti elementi che hanno convinto la procura di asti a spiccare quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere sequestrati anche i conti correnti 7.000 euro in contanti 6 auto di lusso nella disponibilità del gruppo due degli arrestati fra questi il capo della banda avevano precedenti nel mondo della droga l'attività d'indagine ha preso avvia dal fermo a novembre di una coppia di spacciatori e alla chiusura di un bar a Santa Vittoria d'Alba dove la donna lavorava e vendeva cocaina approfittando della fiducia della titolare si sospetta che il sodalizio avesse approfittato del fermo per prendere il controllo della piazza di spaccio braidese ed ora veniamo a parlare dello stato di salute del territorio piemontese ovviamente in riferimento alla presenza del covid purtroppo c'è stato un leggero incremento di quelli che sono i numeri dei contagi ma diamo un'occhiata proprio a quelli che sono i dati riferiti oggi dall'unità di crisi della regione Piemonte i decessi più 34 rispetto a ieri a livello regionale di questi 9 sono cunesi i contagi in Piemonte salgono più 1187 da ieri di questi 238 sono della provincia di Cuneo andiamo ai guariti sono 1459 quelli guariti in più rispetto alla giornata di ieri 224 provengono dal territorio della provincia di Cuneo ed ora i dati degli ospedali terapia intensiva meno 17 quindi il numero cala cala anche quello dei ricoverati in terapia non intensiva meno 44 andiamo invece a chi è in isolamento domiciliare anche in questo caso il numero è in calo meno 245 rispetto a ieri più 6.039 rispetto a ieri i tamponi effettuati questi sono i dati che riguardano appunto il territorio piemontese il territorio cuneese dati che per ora confermano l'importante cambiamento che aspetta anche la provincia di Cuneo dalla giornata di domani ovvero quando tornerà gialla anche la granda lo sappiamo è l'unica parte rimasta ancora arancione dopo i nuovi provvedimenti una situazione che sicuramente sblocca gran parte delle economie ma che per confartigianato è ancora poco chiara il decreto sancito l'apertura soltanto dei locali che hanno spazi all'aperto per esempio non solo anche il caffè potrà essere servito al bancone soltanto se è presente una struttura esterna si è scatenata dunque una confusione interpretativa dicono da confartigianato è inaccettabile ha spiegato Alessandro del Trotti presidente dei produttori dolciari di confartigianato imprese Piemonte che nel decreto riapertura non si è prevista la consumazione al banco per le attività di ristorazione compresa quella artigiana così come per i bar c'è stata l'ennesima comunicazione fatta all'ultimo momento con l'aggravante della mancanza di chiarezza affidata solo a una precisazione di una circolare del ministero dell'interno la vendita diretta della pasticceria artigianale per esempio coinvolge in Piemonte 1618 imprese nelle quali lavorano 4780 persone di queste sono circa 1200 le imprese artigiane che si stima rappresentino il 76,4% del comparto che si trovano sicuramente in difficoltà anche in questo tentativo di nuova riapertura a proposito di confartigianato andiamo nella zona di Borgos San Dalmazzo per il nuovo presidente presidente Manassero dopo una grande esperienza nel movimento donne imprese ora la guida della zona di Borgos San Dalmazzo sì effettivamente da quattro anni che sono presidente del movimento donna ho avuto il piacere di candidarmi come presidente sulla zona di Borgo e oggi grazie al consiglio di zona che fin dall'inizio ha condiviso questa mia scelta mi trovo con il ruolo anche di presidente della zona di Borgo oltre a presidente territoriale del movimento donna sicuramente un onore cercheremo di fare tutto il possibile al fine di valorizzare le PMI sul territorio sulla zona di Borgo per rendere grandi la nostra zona soprattutto in un periodo in cui stiamo vivendo una grande crisi prima dovuta all'economia alla crisi economica oggi dovuta alla pandemia nel suo discorso di insediamento l'impegno a coinvolgere gli artigiani del territorio sì esattamente questa è una nostra priorità è la priorità della nuova squadra il coinvolgimento e il far squadra è il primo punto quando ci siamo trovati con Adriano e con Marco in quanto riteniamo doveroso coinvolgere non soltanto gli imprenditori artigiani che già fanno parte del consiglio ma soprattutto cercare di allargare il più possibile a coloro che non hanno mai partecipato alla vita associativa questo anche per un di domani per far crescere quelli che saranno poi i dirigenti del domani e per star vicino alle problematiche degli artigiani perché sappiamo benissimo che il periodo che stiamo vivendo non è del più rosio l'associazione serve proprio per questo per star vicino a coloro che sono associati tra le future iniziative sicuramente la valorizzazione dell'imprenditoria femminile e di quella giovanile sì esatto col fatto che io ho iniziato questo percorso all'interno del sistema di confartigianato come delegata del movimento donna sulla zona di Borgo sicuramente non dico che è una priorità per me ma quasi il fatto di cercare il più possibile di avvicinare alla vita associativa i giovani quindi parliamo delle start up parliamo anche delle donne imprenditrici che non sono delle start up ma sono più avanti con l'età per cercare di fare squadra fare squadra nei movimenti sia il movimento donna che il movimento giovani con la presidente Francesca Nota sono dei movimenti molto importanti perché sono delle palestre dove aiutano a formare sia a livello personale che a livello professionale e poi mettiamo all'interno delle nostre realtà lavorative quello che abbiamo preso quindi i percorsi formativi che apprendiamo nel corso degli anni in cui siamo insediati all'interno dei vari movimenti questo è molto importante per noi per la nostra squadra e per me in particolare e noi torniamo a parlare di zona gialla da domani riapre anche la cultura riaprono le mostre riaprono anche i cinema solo il 15% però ci crede e mette a disposizione le sale nel territorio cuneese per esempio sono solo due tante le attività che ripartono in questo periodo anche i cinema riaprono i battenti solo due per ora in provincia di Cuno tra cui l'Aurora di Savigliano quali prospettive per questa riapertura? Sì, noi siamo molto contenti di riaprire principalmente per le persone che hanno fatto la tessera a settembre della nostra rassegna che comprende appunto dieci film e purtroppo eravamo riusciti a proiettarne solamente tre e allora riapriamo mercoledì 5 maggio con il quarto film della rassegna 2021 con la prospettiva di fare gli ultimi sette titoli e cercare di fare il film al weekend dico cercare perché i titoli scarseggiano vediamo tutto quello che c'è da fare noi cercheremo di farlo infatti l'idea è di fare il film DVD Allen il prossimo weekend e a seguire Nomadland il film che ha vinto l'Oscar speriamo di riaprire che vada tutto bene che la gente risponda bene normalmente gli spettacoli iniziavano alle 9 e rispettando il coprifuoco in posto delle 10 dovremmo iniziare alle 8 e quindi chiederemo questo sforzo da parte delle persone fino a quando non modificheranno probabilmente si parla a metà maggio di allungare il coprifuoco alle 11 in tal caso si modificerà poi l'ingresso del cinema spieghiamo che in questo periodo in cui le sale cinematografiche erano chiuse ovviamente c'è stata anche una scarsa produzione di film una scarsa distribuzione sì assolutamente scarsa produzione produzione limitata e la distribuzione è stata privilegiata giustamente quella dello streaming perché i cinema essendo chiusi e quindi ha colto di sorpresa sia noi gestori che proprio le case di produzione e a noi la notizia del film DVD Allen distribuito nei cinema è arrivata ieri mattina sì abbiamo detto per ora saranno solamente due i cinema in provincia di Cuneo a riaprire voi e Busca molte sale hanno scelto per ora di tenere le sarande abbassate sì assolutamente in Italia si parla del 15% delle sale che apriranno e in provincia di Cuneo appunto proprio solo noi e Busca ha già aperto questo weekend alcune sale in centro di Torino e vedremo la gente ha voglia di tornare al cinema ma insomma riscontri interesse sì gente mi ha chiesto numerosa gente mi ha chiesto quando potevamo riaprire spero che si riversino dentro i cinema noi li aspettiamo a braccia aperte anche perché quello dello spettacolo quello dell'arte in generale è un comparto colpito dalle restrizioni particolarmente assolutamente sì purtroppo sì noi appunto rispetteremo tutte le normative imposte del distanziamento in sala e fuori per le code le parti tutti gli spettacoli purtroppo è stato proprio un settore molto colpito a proposito di ripartenze da questa fine settimana ripartono i voli principali dello scalo di Cuneo le Valdigi dunque con le mete principali che sono quelle per la Puglia e per la Sardegna ovviamente bisognerà fare attenzione perché gli spostamenti sono consentiti in tutte le regioni in zona gialla in quelle invece in zona arancione in zona rossa sono consentiti solo per dei motivi particolari lavoro o malattie e soprattutto bisogna esibire il cosiddetto Green Pass che certifica appunto di essere o senza Covid oppure vaccinati pagina sportiva parliamo di ciclismo in particolare di una delle gran fondo più attese in provincia di Curo la Fausto Coppi l'anno scorso non c'è stata quest'anno tornerà il 27 giugno dopo l'edizione 2020 saltata a causa della pandemia la Fausto Coppi Officine Mattio è pronta a ripartire lo spettacolare evento ciclistico internazionale si svolgerà il prossimo 27 giugno sui tradizionali circuiti con partenza e arrivo in piazza Galimberti il percorso della Gran Fondo prevede 177 chilometri con 4125 metri di slivello la medio fondo 111 chilometri con un dislivello di 2500 metri il maestoso Colle Fauniera sarà come di consueto la cima simbolo della corsa dove è fissato il gran premio della montagna di entrambi i percorsi le difficoltà nell'organizzazione non mancheranno tenendo conto di tutti i vincoli imposti dalla situazione attuale e avendo come priorità assoluta la sicurezza dei partecipanti ma la squadra della Fausto Coppi è al lavoro per assicurare una corsa all'altezza della sua fama nel frattempo la lista dei partecipanti si sta delineando tutti coloro che si sono iscritti all'edizione 2020 e che hanno visto la loro iscrizione congelata per l'annullamento dovuto alla pandemia avranno tempo ancora qualche giorno fino al primo maggio per confermare la propria presenza all'edizione 2021 al momento sono già circa 1.500 gli atleti confermati e siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale a voi come sempre un grazie per averci seguito arrivederci a presto a presto